Il contagio non si arresta in Irpinia seppur con numeri in flessione, ma ora spaventa il focolaio di Montella con altri nove positivi comunicati dal sindaco Buonopane. Mi aspettavo di avere altri casi ma non credevo di queste dimensioni, scrive su Facebook. Stiamo purtroppo raccogliendo i frutti di una serie di comportamenti sconsiderati da parte di qualche concittadino. Sono 28 i pazienti nel Covid Hospital del Moscati e il virus arriva anche alla ex Irisbus. Infetti tre lavoratori della cooperativa che presta servizio nel reparto logistica. Tutti i dipendenti della fabbrica entrati in contatto con loro si stanno sottoponendo in queste ore al test sierologico. Altri tre positivi a Forino dove però sono tutti negativi i tamponi sui bimbi dell'asilo di Chelsea, così come buone notizie arrivano da Taurasi. Anche qui negativi 25 tamponi legati al cluster di Mirabella. Intanto si è contagiato un medico del Criscuoli e il quarto operatore sanitario in questa seconda ondata. Il sindaco Festa torna ad attaccare la regione sul Maffucci De Luca ha perso sei mesi. Rilancio la mia idea e oggi i fatti ci danno ragione. L'ospedale sarebbe perfetto per ospitare i positivi in quarantena. In città la preoccupazione è palpabile, si temono gli effetti disastrosi di un nuovo lockdown. Si teme se noi siamo inosservanti di quelle che sono le norme. C'è tutto subordinato al nostro atteggiamento. Purtroppo la paura c'è, però dobbiamo stare calmi, dobbiamo stare attenti. Sicuramente più controlli perché non ce ne sono abbastanza. Non c'è una misura di contagi tali da giustificare un lockdown. Sono abbastanza ottimista, penso che piano piano caleranno. Ci troveremo in una brutta situazione economica generale. Ci distrugge. Speriamo di no, perché non sopporterei di stare a casa e di scendere soltanto il cane per dieci minuti e risalire sopra. Abbiate bondate.